ciao drummer in questo video vorrei parlarti di una cosa di cui tengo molto a metterti in guardia e cioè di quel modo di dire che si sente anche in inglese no pain no gain cioè praticamente tradotto sarebbe senza dolore non si hanno risultati senza dolore non si raggiunge l'obiettivo e questo purtroppo lo sento lo vedo lo percepisco pensare lo sento dire anche adesso da batteristi da insegnanti che da insegnanti di batteria addirittura c'è stata una discussione sulla pagina che gestisco quella di impugnatura bacchette dove ci sono stati due o tre commenti che che non erano d'accordo su un post che avevo pubblicato su appunto questo modo di dire no pain no gain appunto io l'ho pubblicato perché perché non sono assolutamente d'accordo con questo modo di pensare anche perché è un modo di pensare vecchio antico cosa che si pensava fino a 30 40 anni fa adesso con la nuova scuola con il nuovo modo di pensare di suonare la batteria che meno male la batteria non è più pensata come uno strumento che viene suonato solamente con forza e quindi da questo appunto se non c'è dolore non si raggiungono gli obiettivi non si hanno risultati non è assolutamente vero anzi io sono super convinto che nel suonare ma qualsiasi strumento non solo la batteria ma a maggior ragione la batteria perché soprattutto per i profani la batteria sembrerebbe uno strumento che deve essere suonato con forza no se non hai forza fisica allora non puoi fare il batterista non c'è niente di più sbagliato nel pensarla così appunto io sono portato comunque a pensare ma vedo comunque che una buona maggioranza la stragrande maggioranza dei batteristi degli insegnanti la pensa come me che al contrario di che il dolore e sintomo che si sta lavorando bene questo 90 per cento dei batteristi e degli insegnanti la pensano come me nel dire nel pensare che al minimo dolore al minimo segnale di dolore di sforzo e il fisico manda un segnale ti manda un segnale che c'è qualcosa che non va vuol dire che se senti dolore in qualsiasi parte del corpo vuol dire che quella parte del corpo è eccessivamente sotto tensione ed eccessivamente sotto sforzo e questo non va quindi il dolore deve essere visto come un campanello d'allarme per correggere gli errori perché dove c'è un dolore vuol dire che c'è uno sbaglio di fondo non è che c'è solo uno sforzo è chiaro che si suona la batteria si suona la batteria determina anche un minimo di sforzo ma è un altro tipo di sforzo è uno sforzo fatto in relax sfruttando la forza di gravità sfruttando il rimbalzo delle pelli insomma tutte queste cose qua che da qualche anno da un po di anni per fortuna è un modo di pensare che è entrato nel modo di interpretare questo strumento quindi mi raccomando non credere a questa vecchia mentalità proprio old school old style no pain no gain cioè anzi è di fida dalle persone che la pensano così sono dei ciarlatani sono dei cialtroni e possono veramente rovinarti la salute quindi mi raccomando al minimo al minimo segnale di dolore fermati e riguarda le tue abitudini perché dove c'è un dolore vuol dire che vuol dire che c'è qualcosa che non va ormai il vecchio modo di pensare che sento male al braccio vuol dire che sta lavorando vuol dire che il muscolo lavora allora vuol dire che devo andare avanti così no anzi è il contrario è logico che soprattutto per chi incomincia all'inizio sente un po di no dolore un po di quella sensazione che appunto i muscoli tendini sono un po sotto sforzo ma è anche normale perché soprattutto le prime volte ai primi ai primi tempi si usano dei muscoletti dei tendini che non si sapevano neanche che esistevano quindi ci sta ma sentire che si fa che sentire che se c'è un lavoro non un dolore soprattutto se il dolore persiste lì veramente bisogna fermarsi più di qualche giorno per recuperare lo stato che si aveva prima e far mente locale su qualcosa che si è fatto sicuramente di sbagliato io questo video lo finisco qui è stato uno sfogo ma a me certe cose fanno veramente girare le balle lo dico veramente fanno veramente girare le balle che nel terzo millennio ci sono ci sarà ancora questo modo di pensare no pain no gain non va bene secondo me io finisco quel video finisco qua questo sfogo ma spero che tu in questo video abbia trovato delle notizie utili o quantomeno di ispirazione fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti naturalmente iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto seguimi sui miei canali social facebook e instagram e visita il mio blog www.impugnaturabacchette.com e noi ci vediamo al prossimo video ciao